Oggi vi spiego il sistema più economico per un giusto workflow con i file Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video ed oggi voglio parlare con voi ancora e ancora e ancora di backup organizzazione dei file questo perché è un argomento a cui tengo molto e voglio spiegarvi un processo, un workflow che tutti quanti possono utilizzare per avere un minimo di sicurezza quando si lavora con i file ma questo discorso va bene sia per i professionisti che anche per il semplice amatore che vuole conservare le proprie fotografie e non vuole perderle quindi oggi vediamo un sistema, probabilmente uno dei più economici con cui possiamo creare una rindondanza nel nostro sistema di archiviazione dei file allora diciamo che abbiamo bisogno di tre cose, tutte e tre uguali questo primo esempio si basa su un workflow lavorativo quindi cosa significa? che noi abbiamo dei file che ingestiamo, quindi che entrano all'interno del nostro computer dei file di progetto che lavoriamo e dei file di esportato ossia dei file che noi esporteremo e saranno considerati il nostro materiale finito ok, quindi basiamoci sull'utilizzo di questi tre punti avremo bisogno per avere un sistema sicuro di tre cose ben tre hard disk due dei quali devono essere necessariamente uguali e uno invece può essere anche più piccolo ora, perché questa distinzione? perché due devono essere più grandi dell'altro? beh, presto detto quello più piccolo, inteso come hard disk di lavoro deve essere l'hard disk dove noi una volta che arriva la schedina da dover scaricare la mettiamo nel computer scarichiamo tutti i file su questo hard disk su questo stesso hard disk noi andremo a lavorare quindi a creare dei file di progetto e successivamente naturalmente anche gli esportati ma, qual è il sistema che dobbiamo utilizzare? partiamo dal presupposto che questo primo hard disk, quello più piccolo può essere anche il nostro hard disk del computer io considero tre memorie in generale quindi la più piccola può essere tranquillamente quella del nostro computer quindi noi dobbiamo avere collegati al nostro computer l'hard disk numero 1 e numero 2 che chiameremo master e backup quando andiamo a fare l'inges del nostro materiale dobbiamo scaricarlo sul nostro computer quindi sul nostro hard disk di sistema o l'hard disk dove decidiamo di lavorare sull'hard disk master e sull'hard disk di backup fatto questo possiamo staccare hard disk master e backup e tenerli da parte cominciamo a lavorare ai nostri progetti sul nostro hard disk master sul nostro hard disk di sistema o l'hard disk di lavoro mentre lavoriamo dipende poi da quanto tempo impieghiamo per la lavorazione dobbiamo impostarci delle regole temporali ogni giorno o ogni due giorni dobbiamo prendere tutti i progetti e farne una copia sull'hard disk master e l'hard disk di backup se è un lavoro veloce allora fatto questa operazione la faremo una sola volta se è un lavoro invece che facciamo impieghiamo molto più tempo per portarlo a compimento a termine e ci lavoriamo tutti i giorni è bene fare questa operazione ogni due giorni di lavoro quindi se lavoriamo due giorni su un determinato progetto al secondo giorno facciamo una copia di tutto il materiale in realtà questo numero, il numero che dico sono due giorni sono un numero molto indicativo perché dipende tanto da quanto lavorate su un progetto in realtà la scelta migliore sarebbe ogni sera fare il backup sugli hard disk master e di backup quindi sarebbe l'ideale creare un sistema di automatismo ma questo è comunque una cosa che arriverà un po' più avanti nel futuro per ora limitiamoci a fare una cosa totalmente manuale dove ogni giorno lavorativo facciamo copia sull'hard disk 1 e 2 una volta terminato il lavoro cosa succederà? che noi avremo naturalmente fatti tutti i backup se abbiamo temperato a queste regole avremo che sul nostro computer abbiamo tutti i file ingestati avremo tutti i file di progetto e la stessa cosa li troviamo sull'hard disk 1 e 2 ora cosa succederà? che dobbiamo fare gli esportati quindi dobbiamo semplicemente esportare i nostri file li facciamo e naturalmente ne faremo anche di questi una copia sull'hard disk 1 e 2 a fine quindi lavorazione noi avremo tre copie esattamente uguali del nostro lavoro quindi sull'hard disk di lavoro dove noi stiamo lavorando che può essere il nostro hard disk del nostro computer possiamo tranquillamente andare a cancellare se non ci servono più i file ingestati e i file di progetto conservando unitamente se dobbiamo utilizzarli o dobbiamo rivederli, dobbiamo farne altro utilizzo i file esportati mantenendo però sugli altri due hard disk tutta la lavorazione così facendo noi abbiamo creato un sistema di backup un minimo rindondante dove noi abbiamo comunque una copia dell'altro e nel caso in cui uno di questi due hard disk quindi l'hard disk 1 o l'hard disk 2 venga meno per una qualsiasi motivazione cade, si rompe, uno spike di un fulmine qualsiasi sia abbiamo comunque l'altra copia e dico di più, questo è per quanto riguarda l'archiviazione perché io vi ho detto che questi hard disk una volta fatta la copia vanno staccati dall'alimentazione, vanno staccati dal computer e quindi noi li abbiamo, diciamo, conservati in luogo sicuro lontano da quelli che possano essere gli inconvenienti legati alla corrente elettrica, all'elettricità, al software, all'hardware del computer perché li abbiamo fisicamente staccati nel caso mentre invece, faccio un altro esempio stiamo lavorando, quindi siamo ancora nella fase in cui sull'hard disk di lavoro abbiamo tutti i materiali putacaso dovesse morire il nostro computer o il nostro hard disk di lavoro noi abbiamo comunque copia backupata sugli altri due hard disk quindi in questo modo noi avremo generato una catena rindondante con un'abbondanza di materiale ma che ci aumenta la nostra affidabilità del nostro processo lavorativo del triplo perché noi abbiamo tre copie di tutto mentre aumenta la nostra affidabilità nella conservazione del doppio perché noi abbiamo due copie questi sistemi, questo è il sistema più economico che posso consigliare a tutti quanti si basa, come detto, su tre hard disk dove uno di questi può essere tranquillamente l'hard disk di sistema dove invece chi ha un hard disk di sistema molto più piccolo beh, farà bene a prendere un terzo hard disk per poter lavorare e adesso vi lascio in descrizione qualche link di qualche hard disk perché abbiamo diverse opzioni da quelle un po' più economiche, quelle un po' più sicure quelle ultra veloci, sicure, bla 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 noi in realtà abbiamo tre opzioni per avere questi hard disk abbiamo o degli SSD esterni che hanno un costo più elevato ma sono molto più efficienti per lavorare infatti io consiglio per lavorare sui file quindi come hard disk di lavoro se non è quello di sistema prendere un SSD esterno dipende, la grandezza dipende tanto dal tipo di lavoro che fate se siete fotografi o un conto se siete videomaker né un altro mentre gli altri due hard disk quelli che invece devono essere di backup, master e copia devono essere un po' più cicciotti, un po' più grossi io quindi vi consiglio di prendere sicuramente dei 4TB almeno io non vado oltre il 4TB a me non piace avere degli hard disk di copia, di backup da magazzino se dovesse proprio succedere l'impensabile che le mie due copie di backup muoiono entrambe non ho perso 8, 10, 12TB di materiale ma ho perso solo 4TB di materiale quindi preferisco sempre dividere i progetti in pacchetti più piccoli così se dovesse capitare la cosa peggiore non ho perso tanto, ho perso solo quella parte di lavoro che comunque è un problema ed un danno ma almeno lo vado a circoscrivere mi domanderete ma una volta che ho riempito questi hard disk da 4TB che cosa ne faccio? beh, li sigillate e li conservate io ho un file potete farlo su Word, su Excel, su Google Sheet, su Google Documents dove volete dove faccio letteralmente un elenco hard disk archivio 1 e c'è tutto quello che c'è all'interno archivio 2, tutto quello che c'è all'interno e ho sempre doppia copia di tutto così che nell'evenienza tra 5 anni mi serva un file di 5 anni prima apro quel file, faccio una ricerca vedo dove si trova quel file prendo l'hard disk, lo attacco e recupero quello che mi serve questo è per essere organizzati ed avere una catena di affidabilità nel tempo ora, come detto vi metto qui sotto in descrizione un po' di link di hard disk che possono essere utili vi segnalo un SSD in utilizzo diversi mi ci trovo benissimo della SanDisk e poi vi segnalo degli hard disk da 4 tera sia da 2,5 pollici che non hanno bisogno di alimentazione esterna sia degli hard disk sempre da 4 tera ma da 3,5 pollici che necessitano di alimentazione esterna io dipendo sempre dalle vostre condizioni se siete persone che viaggiano molto probabilmente quelli da 2,5 pollici sono molto più portatili mentre quelli da 3,5 pollici sono un pochino più ingombranti ma molto meglio d'ufficio perché è meglio uno e non l'altro? beh, perché quelli da 2,5 pollici vengono alimentati dal computer stesso e se attacchiamo troppe cose vicino al computer potrebbe non farcela dare la giusta alimentazione al disco mentre quelli da 3,5 pollici hanno l'alimentazione esterna quindi sotto quel punto di vista è tutto più organizzato ed è meglio io insomma vi metto qui sotto in descrizione un po' di varianti che potete sbirciare e dare un'occhiata e insomma siamo giunti alla fine di questo video dove vi ho spiegato quindi un workflow economico per la gestione dei file e dell'archiviazione spero che queste tecniche questi consigli possano essere d'aiuto a qualcuno se sapete di qualche professionista o qualche amico che ha bisogno di questi consigli beh, condividetegli questo video così che potrà informarsi e poter adottare qualche sistema di archiviazione un po' più sicuro per i propri file insomma io vi ringrazio per la visione vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per vedere tutti gli altri video che usciranno sull'argomento e di seguirmi su Instagram perché li condivido un po' di informazioni in tempo reale con le stories insomma cos'altro dirvi io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video a Grazie a tutti.